Il palazzo Asinari di San Marzano venne edificato nel 1684 su progetto di Michelangelo Garove, architetto del Duca di Savoia e del Principe di Carignano e appartiene, con i palazzi Barolo, Graneri e Morozzo, al gruppo di dimore nobiliare eretto a fine 600 a Torino. Ampiato in una fase successiva dagli architetti Benedetto Alfieri e Francesco Martinez, il palazzo, pur privo dello sviluppo verticale di Palazzo Graneri, si pone in termini più innovativi proprio per quanto riguarda l'atrio, risolto con una volta spicchi che già prelude alle soluzioni adottate in Palazzo Provana di Collegno. Nella stessa originale linea architettonica si rileva l'assenza della galleria al piano nobile, nonché lo sdoppiamento del salone principale in un ambiente a doppia altezza rivolto al cortile e in una sala di altezza normale verso la facciata. Al suo interno si trovano appartamenti decorati su disegno di Benedetto Alfieri di metà 700. Il giardino, arricchito nell'Ottocento da piante esotiche molto rare, è stato cancellato dallo sviluppo urbano e dal 1885 il cortile si chiude con il fondale neobarocco disegnato da Camillo Boggio. Costruito per la famiglia Asinari di San Marzano, il palazzo venne ceduto successivamente alla famiglia Ceriana e nel 1946 al cavaliere del lavoro Silvio Turati che ne fece la sede della società Carpano. Giulio Franco Turati e i suoi nipoti sono tuttora proprietari del palazzo. Grazie per la visione!